È possibile che un gas segua la legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac a qualunque temperatura e pressione? Evidentemente no. Un gas reale, se viene troppo raffreddato o troppo compresso, rischia di passare allo stato liquido e dunque di condensare. Dunque la legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac descrivono il comportamento dei gas reali soltanto in certe condizioni, quando cioè questi gas sono lontani dalla condizione di condensazione, quindi diciamo ad alta temperatura e bassa pressione e dunque anche bassa densità. Per questo motivo si ricorre ad un modello di gas che è un gas ideale, un gas che non esiste in natura, che si chiama gas perfetto. Un gas perfetto è praticamente un gas ideale che obbedisce alla legge di Boyle e alle due leggi di Gay-Lussac a qualunque temperatura e pressione. Si tratta come detto di un modello, cioè di una semplificazione della realtà, che tuttavia descrive molto bene in tantissimi casi i gas reali e inoltre ci permette di avere una struttura matematica che eventualmente dovrà essere soltanto corretta o modificata quando andremo a studiare i gas reali. Nel biegno avevamo anche visto che era possibile riunire le tre leggi dei gas, quella di Boyle e le due di Gay-Lussac, in un'unica equazione che avevamo chiamato equazione di stato del gas perfetto. Di stato perché rappresenta lo stato dei gas ma si applica in qualunque condizione di temperatura e pressione solo a questo modello ideale di gas che è il gas perfetto. La forma dell'equazione di stato è quella che si vede rappresentata. Forse era più comune scriverla in quest'altro modo. P0 per V0 fratto T0, ovvero la pressione, il volume e la temperatura assoluta in uno stato, chiamiamolo iniziale, del gas, è uguale a P per V fratto T, dove P, V e T rappresentano la pressione, il volume e la temperatura assoluta in uno stato finale. Insomma l'idea è questa. Se io in uno stato iniziale del gas, ovviamente devo mantenerlo a massa costante quindi non devo cambiare la quantità di gas, ma se in uno stato iniziale misuro questi tre parametri e ne calcolo il valore di questa loro combinazione, se poi vario anche contemporaneamente a persone, volume e temperatura del gas e ad un certo momento mi fermo e in questo stato finale vado a ricalcolare questa combinazione P per V fratto T, ottengo che è un valore che rimane costante. Avevamo dimostrato nel biennio che l'equazione di stato dei gas perfetti comprende le tre leggi particolari dei gas. Infatti, se la temperatura rimane costante è possibile semplificare il valore della temperatura T0 con T e quindi il risultato è l'equazione PV uguale P0 V0, ossia la proporzionalità inversa fra pressione e temperatura descritta dalla legge di Boyle. Se invece si mantiene costante la pressione e la pressione a semplificarsi è quella che risulta è la prima legge di Gelisac. Se invece il volume rimane costante, cioè siamo in una trasformazione isocora, la semplificazione del volume comporta come risultato la seconda legge di Gelisac. Anche se qui è scritta in modo leggermente diverso, è ovvio che questo significa P fratto T uguale P0 fratto T0, cioè il rapporto pressione fratto temperatura assoluta rimane costante. Ma l'equazione di stato del gas perfetto ha una portata ben più ampia di quella illustrata finora. Essa infatti non consente soltanto di comprendere al suo interno le tre trasformazioni particolari isobara, isoterma, isocora, ma anche di mettere in relazione i parametri di uno qualunque stato di un gas, ad esempio lo stato A, con i parametri di un qualunque altro stato del gas C che non si trovino lungo una trasformazione né isocora né isobara né isoterma. Osserviamo ad esempio i due stati del gas A e C. Lo stato A del gas è caratterizzato dai parametri pressione, volume e temperatura e la temperatura corrispondente allo stato A è più bassa della temperatura corrispondente allo stato C. Ma anche il volume di A è diverso dal volume di C e così la pressione di A è la pressione di C. Noi vogliamo dimostrare che la relazione P A V A fratto T A uguale P C V C fratto T C ha una validità anche in questa situazione. Dunque vogliamo provare a dimostrare che i parametri dello stato A sono collegati con i parametri dello stato C. Seguendo la dimostrazione del libro metteremo in relazione i parametri che caratterizzano lo stato A con quelli che caratterizzano lo stato C attraverso una sequenza di trasformazioni. Trasformazioni. Da prima una trasformazione isoterma che ci permetta di trasformare lo stato del gas lungo appunto una trasformazione a temperatura costante e che trasformi lo stato del gas da A a B. B resterà uno stato ausiliario che ci permetterà di passare da A stato iniziale a C stato finale. Lo stato B è scelto in modo che la pressione corrispondente allo stato B sia identica alla pressione corrispondente allo stato C ma al tempo stesso la temperatura di B sia uguale alla temperatura di A. Quindi seguiremo una trasformazione isobara che permetta di trasformare il gas dallo stato B allo stato C di ugual pressione di diverso volume e di diversa temperatura. Iniziamo dunque dalla prima trasformazione quella isoterma. Possiamo scrivere che questa trasformazione segue la legge di Boyle. Quindi la trasformazione dallo stato A allo stato B può essere descritta dalla legge P A via P A uguale PB VB. Usando le indicazioni riportate sul grafico la pressione dello stato A viene indicata con la lettera P0 quindi P0 il volume dello stato A con V0 e questo uguale a P pressione finale dello stato B per il volume corrispondente allo stato B e il volume corrispondente allo stato B è indicato come V0. Dunque questo è quanto possiamo scrivere per la prima trasformazione. Colleghiamo alla prima una seconda trasformazione che permetta la conversione dallo stato B allo stato C. Questa è una trasformazione isobara. Dunque segue a pressione costante la prima legge di Gelius-Sack quella che dice che il volume dello stato B diviso la temperatura assoluta dello stato B è uguale al rapporto fra il volume dello stato C diviso la temperatura assoluta dello stato C. Ora il volume di B l'avevamo già indicato come V' V0'. La temperatura corrispondente allo stato B è la stessa temperatura dello stato A. Potremmo chiamarla T0. Qua non c'è un'indicazione. E tutto questo deve essere uguale a V dello stato C. Il volume dello stato C è il volume finale quindi è indicato con V. E la temperatura dello stato C dipende dalle iperbole su cui si trova e la indichiamo semplicemente con T. Ora abbiamo queste due relazioni. P0 V0 uguale P V0' prima trasformazione. V0' su T0 uguale V su T. È evidente che in queste due relazioni ci sono i parametri dello stato iniziale P0 V0 T0. I parametri dello stato finale P, V e T. ma c'è anche un parametro che è legato allo stato intermedio B. Noi vorremmo eliminare da queste due equazioni V0' in modo da mettere in relazione soltanto P0 V0 T0 che ci parla di A con P, V e T che ci parla di C. Quindi ricaviamo dalla prima equazione V0' che risulta pari a P0 V0 V0 fratto P. E andiamo a sostituire questo V0' nella seconda relazione ottenendo P0 V0 V0 fratto P. Questo è soltanto V0' diviso T0, quindi equivale a scrivere fratto T0, uguale V fratto T. Come si vede spostando P a secondo membro otteniamo P0 V0 V0 fratto T0 uguale P per V fratto T che è esattamente l'equazione di stato del gas perfetto. Dunque siamo riusciti a far vedere che questa relazione vale non solo nel caso di trasformazioni particolari ma vale anche in un caso generale che colleghi due stati A e C di parametri completamente diversi l'uno dall'altro. Vi invito a provare che lo stesso risultato si otterrebbe collegando gli stati A e C con due trasformazioni differenti. Ad esempio andiamo a prendere un colore diverso per vedere. Ad esempio in rosso. Si potrebbe benissimo studiare dapprima una trasformazione di tipo isoboro che porti dallo stato A allo stato D e quindi una trasformazione di tipo isovolumico che porti dallo stato D allo stato C. Nuovamente lo stato D verrebbe utilizzato come stato intermedio di passaggio ma il risultato sarebbe lo stesso e se si può dimostrare che qualunque sia la trasformazione utilizzata per passare dallo stato A allo stato C il risultato è sempre lo stesso. Dunque l'equazione di stato dei gas perfetti vale in ogni situazione.